Ok. Bene. Sì, siamo live. Buonasera a tutti. Io sono Roberto Reale, presidente dell'associazione Utopian. Abbiamo stasera con noi Stefano Epifani. Ciao Stefano, grazie di essere qui. Grazie a te, grazie a voi tutti. Stefano ci parlerà di sostenibilità digitale, di cui lui io credo sia il massimo esperto in Italia senza far torto a nessuno. Peraltro lo sono reduce dalla lettura natalizia del suo ultimo libro sulla sostenibilità digitale, di cui naturalmente parleremo dopo. Però Stefano, sfatiamo un mito. Sostenibilità digitale non ha a che vedere con la sostenibilità in senso classico, quindi con il tema ambientale. O quantomeno non soltanto, ma è un concetto molto molto... Beh sì, il problema è proprio questo, la grande confusione che c'è attorno al concetto di sostenibilità, intesa in senso appunto classico. Se di classico si può parlare, perché noi siamo abituati, soprattutto nel nostro paese, la situazione cambia radicalmente se ci si sposta un po' al di là dei confini nazionali, siamo abituati a considerare la questione collegata alla sostenibilità come una questione prettamente legata all'ambiente. Ora, è evidente che il concetto di sostenibilità nasce in ambito ambientale, nella misura in cui l'ambiente rappresenta la risorsa sulla base della quale si può costruire il resto. Ma quando già nel 1985 la Commissione per l'Ambiente delle Nazioni Unite ragionò sul concetto di sostenibilità, immediatamente disse guardate che la sostenibilità non è solo ambiente, ma è ambiente in relazione alla società ed in relazione all'economia. Ora, il punto qual è? Se noi guardiamo la sostenibilità come un fenomeno ambientale, di fatto ci stiamo perdendo la possibilità di costruire un contesto sostenibile in funzione del fatto che il fenomeno è sì ambientale, ma in un bilanciamento tra elemento ambientale, elemento sociale ed elemento economico. In altri termini non esiste sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale e non esiste sostenibilità sociale senza sostenibilità economica. Questo è quello che sfugge. Quello che il pezzettino in più che stiamo provando ad aggiungere è quello per il quale nel momento in cui si parla di sostenibilità la tecnologia rappresenta uno strumento di sostenibilità. Andando un po' contro, diciamo così, la vulgata che si cerca di affermare per la quale la tecnologia è brutta e cattiva in funzione del fatto che ogni tecnologia ha un suo footprint carbonico, è appena ovvio che qualsiasi cosa faccia abbia un impatto carbonico. Il punto non è tanto quanto mi faccia consumare la tecnologia e quindi quando si parla ad esempio di tecnologia sostenibile, normalmente a questo si pensa, si pensa ai green data center, ma è appena evidente che il data center debba essere green. Il vero tema è capire come fare per far sì che con quel data center green io riesca a supportare il perseguimento di obiettivi di sostenibilità che vadano oltre il fatto che la tecnologia in sé è sostenibile, ma vedano appunto nella tecnologia uno strumento di sostenibilità grazie appunto al digitale. Questo è un po' insensolato e da grandissime linee l'argomento sul quale poi immagino che ci soffermeremo adesso, insomma. Infatti tu il libro l'hai intitolato Sostenibilità digitale, però poi c'è un sottotitolo, una domanda perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale, quindi accanto agli aspetti di cui parlavi, l'aspetto sociale e l'aspetto economico, quindi è evidente che c'è un aspetto appunto di trasformazione digitale. Se vogliamo, noi in Italia la chiamiamo trasformazione digitale, però ad esempio i francofoni la chiamano spesso transizione digitale, la transizione numerica. In realtà dal mio punto di vista sono due concetti differenti, nel senso che anche in Italia si parla di transizione digitale, ma secondo me la differenza che c'è tra transizione digitale e trasformazione digitale è la stessa differenza che c'è più in un contesto italico, diciamo così, tra digitalizzazione e trasformazione digitale. Cerco di spiegarmi, cerco di spiegarmi meglio. Se noi guardiamo al ruolo del digitale e della trasformazione digitale, ci rendiamo conto che questo ruolo può essere letto a più dimensioni. Quindi se noi pensiamo a quella che è da sempre l'informatica, l'informatica cosa vuol dire? Vuol dire informazione automatica in italiano, no? Nasce proprio dalla contrazione di questi due termini. Ora, il punto qual è? Quando noi parliamo di digitalizzazione, stiamo parlando di informatizzazione di processi. Stiamo parlando quindi di rendere automatici alcuni processi, ridisegnarli, ripensarli e farli supportare dalle tecnologie. Il punto qual è? È che se dobbiamo stare a questa definizione, questa è la digitalizzazione, ma di digitalizzazione si parla da, boh, 40 anni. Quindi cosa c'è di nuovo quando parliamo di trasformazione digitale? Secondo me c'è moltissimo di nuovo, perché se è vero che la digitalizzazione è qualcosa che riguarda i processi, cioè il come facciamo le cose, la trasformazione digitale non è soltanto una transizione verso il digitale, ma è un vero e proprio cambiamento, non soltanto del come facciamo le cose, ma del cosa abbia senso fare in un contesto sociale ed economico in cui il digitale diviene pervastivo. Faccio un esempio che penso sia abbastanza utile. Se noi immaginiamo una fabbrica che produce canne da pesca, grazie alla tecnologia questa fabbrica potrà produrre le canne da pesca migliori del mondo. Quindi noi possiamo immaginare queste canne da pesca fatte in grafene, che grazie all'IoT inseguono i pesci quando noi lanciamo l'esca nel fiume, che grazie all'intelligenza artificiale definiscono la modalità con la quale far muovere l'esca nel modo migliore possibile. Ma tutto questo riguarda un cambiamento di processo, riguarda il come stiamo costruendo quelle canne da pesca e come quelle canne da pesca funzionano. Questa è la transizione digitale. Ma se noi ragioniamo rispetto al fatto che la tecnologia ampliamente diffusa produce cambiamenti nella società e questa società a sua volta reintroduce cambiamenti nell'ecosistema e via dicendo, ci rendiamo conto che il cambiamento non avviene soltanto a livello epistemico, non riguarda soltanto il come facciamo le cose, ma ci troviamo nelle condizioni per le quali noi stiamo producendo queste canne da pesca fantastiche, ma se tutti quanti sono diventati vegani che succede? Cioè la trasformazione digitale attiene al senso delle cose, non riguarda il come facciamo le cose, ma riguarda il cosa abbia senso fare in un contesto sociale-economico rispetto al quale le tecnologie non soltanto agiscono sui processi, ma agiscono sul significato e sul significante degli attori sociali. Ecco quindi che trasformazione digitale è una vera e propria rivoluzione di senso, non riguarda soltanto il modo in cui pensiamo i processi, ma riguarda il senso stesso delle organizzazioni, il senso stesso delle aziende, il senso stesso dell'amministrazione, il senso stesso della società. Oggi ci troviamo immersi in un contesto socio-economico in cui alcune grandi piattaforme definiscono con chi dobbiamo entrare in contatto, quando dobbiamo incontrarlo, quali sono le nostre scelte d'acquisto, come fare per scegliere qualcosa, ma anche per ridefinire qualcosa, definiscono le informazioni con le quali verremo in contatto. Questo rimappa profondamente il nostro modo di essere e di conseguenza noi tutti siamo immersi in un processo di trasformazione digitale, perché se la transizione digitale è una scelta consapevole di un'organizzazione o di un individuo, la trasformazione digitale è un contesto sociale nel quale siamo immersi tutti e rispetto al quale non possiamo scegliere se essere o meno attori di cambiamento, possiamo soltanto scegliere se cercare di cogliere gli aspetti positivi o essere spazzati via da quelli negativi. Questa è la differenza enorme tra transizione digitale e trasformazione digitale, e al che si pone un problema, perché poi il problema si pone. Stante che questo contesto è un contesto trasformativo e non transattivo, questo contesto trasformativo in che direzione cerchiamo di volgerlo? Ed ecco quindi che cominciano i grandi discorsi sull'etica dell'intelligenza artificiale, l'etica delle tecnologie, l'etica di oggetti, che dal mio punto di vista rischiano di essere particolarmente pericolosi. Perché? Perché noi non facciamo altro che estromettere da noi la responsabilità della decisione, come se le tecnologie avessero un'etica che è indipendente da chi le sviluppa. In realtà non esiste un'etica dell'intelligenza artificiale, esiste l'etica del programmatore che sviluppa l'algoritmo, della società nella quale è stato sviluppato quell'algoritmo, o del contesto sociale, intendo, nel quale è stato sviluppato l'algoritmo. In questo senso diventa importante capire come fare per avere una mappa che ci guidi verso questo modello di sviluppo. E questa mappa in effetti esiste, perché è la mappa della sostenibilità, è la mappa di Agenda 2030. Perché questa mappa? Perché il concetto di sostenibilità, prima parlavi del francese, in francese si traduce con durabilità, durevolezza. Perché? Perché la sostenibilità guarda alla possibilità delle persone di perseguire i propri obiettivi e di perseguire quindi il proprio percorso di miglioramento, senza che questo mini le possibilità delle generazioni successive di fare lo stesso. Quindi guarda a una dimensione di equilibrio dinamico della società in cui ognuno mira al miglioramento, senza che questo mirare al miglioramento consumi le risorse di chi verrà dopo di noi o di noi tra qualche anno. E in questo senso la sostenibilità rappresenta qualcosa di molto interessante a cui guardare, che supera di gran lunga la sola dimensione ambientale, ma vede nella dimensione ambientale l'elemento di risorsa limitata. Perché l'ambiente è tutto ciò sul quale noi agiamo, ma che si basa su risorse limitate. Risorse limitate che se le consumiamo male non saranno disponibili per le prossime generazioni e quindi rendono questo modello di sviluppo insostenibile. Sostenibile invece vuol dire che miglioriamo consentendo a chi viene dopo di noi di migliorare altrettanto. Stefano, abbiamo parlato per dieci minuti, anzi hai parlato per dieci minuti e hai già aperto tantissime strade. Io vorrei chiederti invece una cosa, chiamiamo un altro luogo comune. Si parla appunto di trasformazione digitale, di digitalizzazione. Abbiamo chiarito che sono due temi completamente diversi. Poi magari ci potremmo interrogare se quando parliamo di trasformazione digitale possiamo anche parlare, parliamo anche di qualcosa che non avviene una volta per tutte, ma che è permanente in un certo senso. Ma qual è invece la differenza tra queste due cose, appunto, quindi digitalizzazione, trasformazione digitale e invece un terzo concetto che viene spesso associato a questi due ma in modo abbastanza fumoso, cioè l'innovazione? Beh, l'innovazione, come dire, in realtà è il risultato di un processo. Io non... e riguarda ovviamente in gran parte la dimensione digitale. Io non credo che ci sia innovazione che possa prescindere dalla tecnologia. Noi siamo tanto spaventati dalla tecnologia che ci siamo inventati un'immensa costruzione che si basa sul fatto che noi stessi che ci occupiamo di tecnologia, la prima cosa che diciamo alle persone per tranquillizzarle è no, non c'è soltanto l'innovazione tecnologica. C'è l'innovazione di processo, l'innovazione organizzativa, l'innovazione di mercato. E quello che noi trascuriamo è che quando noi parliamo di innovazione di processo, di mercato, organizzativa, in realtà stiamo parlando di innovazioni che sono comunque abilitate dalle tecnologie. Io non conosco una singola innovazione di processo che possa essere sviluppata in maniera avulsa dal contesto tecnologico in cui si sviluppa, in cui nasce. Lo stesso fuoco è un'innovazione tecnologica, lo stesso linguaggio è un'innovazione tecnologica a strumentale. Quindi di fatto la tecnologia è sempre la base dei percorsi di innovazione e ovviamente poi si declina con applicazioni sui processi, sulle persone, sul mercato, sui prodotti, ma l'innovazione è sempre un'innovazione che ha una radice profondamente tecnologica. Tecnologia che ci spaventa, perché la tecnologia poi comporta grandi cambiamenti sociali, grandi cambiamenti economici ed ha sempre impatti. Ma noi a questi impatti dobbiamo reagire positivamente, altrimenti rischeremo di fare come gli inglesi nell'Ottocento, con la Red Flag Act, che è quella legge sulla base della quale con l'introduzione delle automobili, di fatto ci furono due grandi categorie che vennero messe in difficoltà da questo. I cocchieri, quelli che appunto guidavano il cavallo, e l'industria del trasporto su ferro. Il risultato dell'azione di lobbying di questi attori sociali, di tipo conservativo, terrorizzante, fu che indussero il governo inglese a emanare quella che venne definita Red Flag Act, la legge della bandiera rossa, che non è quella che triunferà, ma quella che imponeva a chiunque entrasse a Londra in automobile, di essere preceduto da un avvisante a piedi che sventolava una bandiera rossa per avvisare le persone del potenziale pericolo. In realtà questi sventolatori di bandiera erano i cocchieri, che invece di preoccuparsi di diventare autisti e quindi sviluppare un percorso di affiancamento grazie all'innovazione, di trasformazione grazie all'innovazione, si sono preoccupati di cercare di ostacolare l'innovazione e sono diventati avvisanti. E chiaramente sono durati qualche anno, peraltro non soltanto a Londra, perché poi la stessa legge si è sviluppata a Washington, si è sviluppata a New York, è durata qualche anno. E noi lo vediamo sempre. Ogni volta che c'è un'innovazione di tipo disruptive, c'è sempre una parte sociale che ne viene colpita. E noi facciamo l'errore di sovrapporre la necessità di tutelare quelle parti sociali che vengono colpite dall'innovazione con la necessità di bloccare l'innovazione. Ma se noi disaccoppiassimo questi elementi, ci renderemo conto che da una parte c'è la necessità di promuovere l'innovazione, dall'altra, con il valore creato dall'innovazione, di tutelare quelle parti sociali che sono invece colpite dall'innovazione stessa, perché c'è sempre qualcuno che ha colpito dall'innovazione, e non possiamo nasconderci. Possiamo fare questa affermazione? Cioè che lo Stato spende, o comunque, diciamo non buttiamo tutta la colpa d'ossolo Stato, ma noi in quanto... Non è soltanto dello Stato la colpa. No, 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 intendevo, volevo fare un piccolo passo avanti e osservare il fatto che noi come società tendiamo a essere, a usare più risorse nella conservazione dello status quo anziché nell'apertura all'innovazione, no? Se guardiamo anche un po' al bilancio dello Stato, quali sono le voci di spesa maggiori? Quelle naturalmente per il pagamento degli interessi sul debito e poi la spesa sulle pensioni naturalmente. Sacro santo, però se poi confrontiamo queste voci di spesa invece con quelle per la ricerca di base e in generale anche per l'innovazione stessa, ci rendiamo conto che c'è un'enorme disparità tra appunto le risorse che mettiamo in campo come appunto come le risorse che mettiamo in campo per conservare rispetto a quelle che mettiamo in campo per rinnovare. E naturalmente il bilancio è un bilancio dello Stato, però è ovvio, quel bilancio è probabilmente espressione anche un po' della società italiana nel suo insieme. Italiana, ma chiaramente mutatis mutandis, lo stesso stato di cose lo troviamo anche fuori dall'Italia. Come tu nel libro in effetti parli di un futuro che sostanzialmente non è evitabile, no? Non è evitabile e non è... Perché ti chiedi, ma il futuro è una scelta? E la risposta, insomma, è probabilmente no. Nel senso che possiamo provare a fermarlo, no? Per quanto possiamo, ma come appunto come nel caso che... come nell'esempio dei red flags, ovviamente riusciamo a farlo per un po', ma poi il tempo che passa, il futuro stesso, insomma, avviene, ci travolge e non... e se non ci siamo preparati per appunto accoglierlo, ci troviamo... ci troviamo travolti, no? Tu come... come... cioè se dovessi, pur comprendendo, no? Che naturalmente è un fatto umano il trovare il sistema di innovazione, però se tu dovessi, ecco, un po' a provare a convincere, convincerci della necessità invece di lasciarci guidare anche dal cambiamento. Ma in realtà, in realtà, la storia ci ha insegnato che l'innovazione produce benessere. E l'innovazione, il progresso, ha sempre prodotto benessere. Poi ci troviamo di fronte sempre a quelle categorie professionali, a quegli individui. E ripeto, non è... non dipende dallo Stato, ma dipende dalla società, dipende da noi. In questo caso, mai come in questo caso, la dimensione, come dire, sociale rispecchia un comportamento proprio della dimensione individuale. In altri termini, noi siamo... noi come individui siamo spaventati dall'innovazione esattamente come lo sono le organizzazioni complesse. E cerchiamo di rifugiarci nella nostra zona di comfort, nella nostra comfort zone. Il problema è che quanto più ci rifugiamo nelle zone di comfort, tanto più queste zone di comfort si restringono e diventano in qualche modo non adatte a consentirci uno sviluppo personale adeguato. Lo stesso succede per le organizzazioni, lo stesso succede per la società. Noi ci troviamo nella condizione oggi di vivere il tema della sostenibilità come un tema che ha un profondo impatto etico. Io, se dovessi convincere qualcuno da... forse non so, non sono la persona pirata, perché sono un dannato razionalista, però lo farei facendo presente che quando parliamo di innovazione sostenibile e quando parliamo di sostenibilità stiamo parlando della stessa cosa. Perché di fatto la sostenibilità non è una questione etica, è una questione di sistema. È una questione di sistema complesso. Nella misura in cui la sostenibilità è il modo che noi abbiamo per bilanciare tre elementi che sono inscindibilmente collegati. Ossia la necessità di gestire delle risorse limitate e in competizione, che sono le risorse di cui si parla tanto in questi giorni nel Next Generation Europe, no? Quindi le risorse con le quali creiamo benessere e che si stanno consumando. A fronte di questo dobbiamo gestirle per costruire una società che risponda a un modello sociale che ci piace. E questo ci piace è qualcosa che viene descritto molto bene da Agenda 2030. Perché se guardiamo la descrizione trasversale della società che dà Agenda 2030 e che dà il framework dei diritti umani ci troviamo nella società equa, in una società nella quale si salvaguarda i diritti, in una società nella quale le persone non muoiono di fame, in una società nella quale si guarda il benessere individuale come elemento di riscontro del benessere collettivo, si guarda la parità di genere, si guarda un sacco di belle cose. Quelle belle cose che noi dobbiamo perseguire. Quindi quel modello sociale deve determinare un modello economico. Un modello economico che consenta di perseguire quel modello sociale nel rispetto dei limiti dei limiti di gestione delle risorse ambientali. Ora, tutto questo non è una questione di etica, è una questione di razionalità. O facciamo così, oppure stiamo bruciando il mondo dei nostri figli. E secondo me non è una cosa tanto bella bruciarci il mondo dei nostri figli. Già stiamo... Per carità, non che sia impossibile, noi stiamo vivendo in un momento nel quale le generazioni precedenti si sono mangiate il futuro delle generazioni successive. Ma noi sappiamo che quello che è successo negli ultimi 50 anni nel nostro paese e in senso lato al mondo è di fatto profondamente insostenibile. Abbiamo due strade. O proseguiamo in questa direzione di insostenibilità dello sviluppo, oppure ci chiediamo quali sono gli strumenti che ci consentono di costruire un modello di sviluppo sostenibile. E in questo senso ci rendiamo conto che la trasformazione digitale, che è un contesto nel quale stiamo vivendo, è forse l'unica opportunità che abbiamo per uscirne, come dire, non troppo malmessi. Perché? Perché la trasformazione digitale, il digitale in senso lato, è abilitante di alcuni modelli che sono particolarmente adatti a garantire lo sviluppo sostenibile. Perché quando si parla di economia circolare, non può esistere economia circolare senza digitalizzazione. Quando si parla di sharing economy, quella vera, quella giusta, non la gig economy, come dire, venduta come sharing economy, non può esistere senza una dimensione digitale di base. Il problema è che quando noi parliamo di sostenibilità senza tecnologie, l'unica cosa che possiamo realisticamente fare è andare verso un drammatico percorso di decrescita felice che è senz'altro una scelta individuale molto romantica, ma dal punto di vista collettivo semplicemente non sta in piedi perché i numeri non consentono ai miliardi di persone che abbiamo oggi al mondo di sopravvivere con un modello di decrescita felice. Lo consentono come scelta individuale, magari anche un po' snob. La mia, io vivo in campagna, ho un ettaro di terra intorno, coltivo l'orto, ho le oche, ma molto banalmente quello che faccio io non è sostenibile su scala globale. Permettimi una provocazione, se tutti quanti mangiassimo biologico e rifiutassimo l'utilizzo per il biologico di tecnologie, non basterebbe la terra per coltivare biologico, quindi dobbiamo fare pace con noi stessi. O vogliamo il biologico, ma ci pieghiamo al fatto che ci siano tecnologie che lo consentono e quindi si sviluppa un biologico su scala industriale, oppure se vogliamo andare a cogliere la frutta dal contadino, probabilmente non c'è terra abbastanza per tutti. Ma guarda, con me sfondi la classica porta aperta, io sulla la decrescita, felice o infelice, la ritengo una distopia. Ne parlai, ho avuto anche l'occasione di parlarne con la Tuscio qualche anno fa quando la incontrai, disse che probabilmente il suo era un sogno da privilegiato, un incubo per la maggior parte degli altri. È un sogno da privilegiato, un po' snob, ma aggiungo un fatto, il fatto che non esista la decrescita felice ci impone di ragionare su un'altra domanda, qual è il modello di crescita che vogliamo. E qui si apre un altro quadro molto complesso, perché quando noi facciamo la famosa critica al capitalismo, non ci rendiamo conto che sul capitalismo si basa la nostra società che è andata benissimo fino ad oggi. Ora però facciamo un'assunzione, quello che è andato benissimo fino ad oggi può andare bene indefinitamente nel futuro. E questo è l'errore. Perché? Perché se noi siamo nello stato attuale perché abbiamo avuto un modello di sviluppo di tipo capitalistico ed è stato il migliore che avevamo a disposizione, non è detto che questo modello senza alcun correttivo funzioni all'infinito. Io faccio un esempio molto banale. Quando, visto che parlavamo di campagna, quando un vitello cresce, il vitello cresce di alcuni etti ogni giorno nei primi mesi della sua vita e cresce in maniera lineare, se continuasse a crescere con quella velocità, quando arriva a tre anni peserebbe sei tonnellate. Cioè sarebbe morto prima perché sarebbero collassati gli organi. Ora quindi cosa sto dicendo? Allo stesso modo ogni fase storica ha un suo modello di sviluppo peculiare. Noi fino ad oggi abbiamo vissuto in una fase che è stata prettamente capitalistica e che ci ha consentito di trarre il meglio di quello che si poteva fare. A questo punto la domanda... Marx ti direbbe che questa è un po' la caduta tendenziale del saggio di profitto, no? Il fatto di appunto tu hai rendimenti che sono sempre minori, no? Come nel caso del vitello. E quindi a questo punto cosa facciamo? Dobbiamo capire qual è un modello di sviluppo adatto alla nuova fase che ci aspetta, che non può essere esattamente uguale a quello che stiamo superando, ma questo non vuol dire che è quello che stiamo superando sia stato cattivo. Però la critica è l'eventuale critica al capitalismo o al capitale in sé? Perché poi, sai, lì dovremmo scomodare un po' gente come Picchetti che ti dice che invece non è il capitale in quanto tale, no? Ma è appunto la forma d'uso del capitale come è stato. C'è addirittura ci sono una bella serie di studi che dimostrano come le critiche al capitale siano tutte quante infondate in quanto partono tutte quante da tre presupposti tecnici, morali o etici e c'è un bellissimo libro che li smonta tutti quanti. Il problema che però a questo punto ti giro è come stiamo pensando che nei prossimi non dico cento ma nei prossimi trent'anni sarà costruito il concetto di capitale e questo ci ricollega al tema delle piattaforme e ci ricollega quindi a una dimensione tecnologica anzi ci ricollega a una dimensione tecnocentrica dello sviluppo perché noi sappiamo che oggi la maggior parte dell'economia ruota attorno a delle dimensioni che sono collegate a stretto a ancora un filo strettissimo alla platform economy alla platform society e anche su questo si sta riproducendo lo stesso errore che abbiamo visto in passato cioè abbiamo da una parte la Zuboff che dice che stiamo vivendo nel capitalismo di sorveglianza che è brutto e cattivo perché si chiama Google ma quando sostituiamo a Google sempre per la Zuboff lo Stato diventa bello e buono ma infatti ma infatti anche su questo io ti volevo poi appunto portare un po' perché tu nel tuo libro naturalmente poni tutta una serie di alternative e tra queste c'è anche sicurezza sicurezza o appunto anzi privacy o controllo e parli chiaramente parli chiaramente della Zuboff del suo libro peraltro oggi ho scoperto che in realtà la Zuboff non è stata la prima a parlare di capitalismo della sorveglianza ma se ne parlava un paio d'anni prima e se vuoi ti dico anche chi ne parlava però aspetta me lo sono appuntato ecco qui nel luglio 2014 Bellamy Foster e Mick Chesney ne parlavano quindi un anno prima in realtà dell'articolo della Zuboff del 2015 e poi cinque anni prima del suo libro del 2019 però appunto tornando un po' al tema quindi un po' all'alternativa privacy o controllo è un'alternativa antica se vogliamo possiamo anche risalire un po' anche al pensiero filosofico possiamo risalire al Foucault alla sorveglianza o addirittura a Bentham appunto col panottico esatto con lo Stato sostanzialmente al centro e tutti tenuti costantemente d'occhio però esiste veramente questa questo tipo di alternativa e appunto è Google che è più tè cattivo e lo Stato che è più tè cattivo esatto io credo che spesso noi tendiamo a creare delle polarizzazioni sui concetti che è proprio quello che dico nell'ultima parte del libro noi ci troviamo di fronte a delle scelte che dobbiamo fare il punto è che la scelta non sarà tanto da una o dall'altra parte ma nel gradiente che sceglieremo di tenere e in questo per muoverci all'interno di questo gradiente io ritengo che ancora una volta il tema della sostenibilità sia un tema portante in che senso nel senso che se noi semplicemente ragioniamo per opposizioni ci troviamo di fronte a scelte politiche ma il punto non è tanto ragionare sulla base di scelte politiche che sono dal mio punto di vista sempre sbagliate nell'uno e nell'altro e nell'altro estremo ma capire come bilanciare questi fattori per costruire una società migliore ed in questo ci aiuta ancora una volta e torno a dirlo agenda agenda 20-30 perché in qualche modo declina dei principi guida che ci consentono messi a sistema col framework dei diritti umani di identificare delle rotte spesso anche abbastanza strette all'interno delle dicotomie che si presentano perché poi quella di controllo privacy è la stessa che potremmo pensare anche rispetto a libertà e semplicità che anche in questo senso come dire si rispecchia bene nell'ambito di scelte individuali io ho un iphone io so benissimo che il mio iphone è uno strumento molto più chiuso di piattaforme ipoteticamente o apparentemente più aperte più più libere per contro è molto più semplice quindi noi per pigrizia come dire scegliamo di abdicare alla libertà in funzione della semplicità ma questo meccanismo è un meccanismo che poi anche su una dimensione sociale più ampia diventa importante lo abbiamo visto in questi mesi si è creata una posizione del tutto artata tra penso a quello che è successo con il contact tracing del tutto artata tra sicurezza sanitaria e privacy peraltro distinzione che nasce proprio da chi invece avrebbe dovuto preoccuparsi di creare non opposizione ma in qualche modo sinergia tra i due elementi facendo capire che si poteva tutelare la privacy e la sicurezza sanitaria questo però avrebbe voluto dire ragionare in termini di sostenibilità digitale cioè chiedersi in partenza quali sono le caratteristiche delle quali abbiamo bisogno nella costruzione di un sistema di tracciamento dei contatti che garantisca la sicurezza sanitaria e sia rispettoso dei diritti individuali delle persone e visto che la risposta c'era ed era possibile svilupparlo partire da quello e non chiedersi astrattamente come lo facciamo un sistema di tracciamento come lo facciamo lo facciamo centralizzato lo facciamo decentralizzato ve le proponiamo tutte e due perché poi questo è stato fatto dal comitato tecnico ve le proponiamo scegliete voi un po' come se io vado dal medico e gli dico mal di testa benissimo puoi farti un attack oppure una scintigrafia io che ne so dimmelo te se te il medico il medico avrebbe dovuto dire no scegliamo un sistema decentralizzato in questo caso che si basi su una serie di caratteristiche quali sono le caratteristiche le caratteristiche sono quelle caratteristiche che si basano su assunti che non possono partire da presupposti contingenti ma devono partire da presupposti strutturali mi spiego meglio noi siamo partiti nel dibattito pubblico dal fatto che avessimo lo stato di cui ci si può fidare quando? quando abbiamo parlato del contact tracing ok e quindi abbiamo detto no ma se ce l'ha lo stato il punto è che noi stiamo partendo da questo assunto che è un assunto del tutto opinabile ma per due ragioni uno perché mi posso fidare dello stato finché decido di fidarmi due perché sto immaginando che lo stato o comunque la struttura statale che implementa il sistema di contact tracing sia assolutamente affidabile quindi mi dimentico due cose l'errore umano e il fatto che in un'ottica quasi come dire paradossale noi ci fidiamo dello stato nella misura in cui lo stato parte da una condizione di diritto per la quale garantisce fiducia ma io sono abituato a lavorare in contesti diversi da quello europeo che sono i contesti latinoamericano latinoamericani in quel caso la proposta che abbiamo sviluppato come Nazioni Unite per lo sviluppo del sistema di contact tracing non partiva dall'assunto per il quale lo stato è buono e ti puoi fidare dello stato partiva dall'assunto per il quale il sistema deve garantire sicurezza sanitaria e diritti dell'individuo senza con questo cedere informazioni eccessive o comunque non necessarie allo stato perché? perché non sempre dello stato ti puoi fidare Stefano su questo io vorrei anche aprire una piccola parentesi però prima ci arriva una domanda dai social e ci chiedono qual è il libro che c'è il titolo del libro che citavi prima quello che smonta tutte le critiche al capitalismo ve lo faccio avere perché è un titolo lunghissimo che è nella bibliografia del mio quindi appena appena un attimo per riprenderlo ve lo faccio avere è di una professoressa di filosofia inglese molto bello bene bene gli inglesi sono una garanzia soprattutto in questo momento e invece sul tema che ponevi poi magari andiamo all'agenda 20-30 sulla dicotomia appunto anzi sulla sostenibilità del modello di servizio pubblico digitale cosa pensi della simpatia mista a timore con cui guardiamo esempi dell'estremo oriente quale ad esempio io stesso guardo guardo a quel quel mondo con una simpatia mista a timore come ad esempio Singapore sai che studiosi come Power Canna hanno parlato di Singapore come la città-stato come il modello ideale quasi la Firenze del ventunesimo secolo da imitare naturalmente con ovviamente con contesti diversi perché parliamo comunque di una città che è dentro un'isola che ha tutta una serie che ha una tradizione storica ma ha anche una serie di vincoli e che naturalmente la rendono un contesto diverso dal nostro ad esempio però le notizie che ci giungono ci fanno ci fanno ci ducono a vedere quel tipo di quel tipo di società come una società che ha fatto una scelta ben precisa cioè ha dato priorità alla sicurezza a scapito probabilmente della privacy io non sono certo che che i termini la questione sia esattamente in questi termini ma comunque anche perché tu mi dicevi giustamente che non dobbiamo ragionare appunto in termini di opposizione ma tu come guardi a quella è un po' come quando uno dice che bella la campagna ma non ci vivrei nel senso che cambiamo cambiamo leggermente esempio prendiamo Taiwan in questo momento Taiwan è il posto al mondo probabilmente con il minor numero di contagi sono a contagi pressoché zero ci dicono me lo dicono anche alcuni alcuni ex miei ex studenti che vivono lì allo stato attuale è tutto aperto le persone sono libere di circolare ma cosa hanno fatto per arrivare a questo hanno usato i militari hanno usato i militari che hanno chiuso i quartieri letteralmente cinturato i quartieri e poi casa per casa con l'elenco di quelli che ci abitavano hanno cominciato a dire ok qui siete in quattro benissimo quattro tamponi e poi in seguito hanno vaccinato casualmente tutti quanti contro l'influenza non l'hanno mai fatto oggi stanno oggi sono a contagi qua praticamente zero qual è il processo che ci porta a quel risultato e in questo io intendevo questo intendevo prima quando vi dicevo cerchiamo di capire che modello sociale vogliamo perché se è vero che il risultato ci piace non è detto che ci piaccia il processo per arrivarci non è detto che ci piaccia sempre e nel bilanciamento tra sicurezza e privacy io penso sempre al fatto che sia possibile perseguire obiettivi di sicurezza più che soddisfacenti ottimali garantendo comunque la privacy delle persone le tecnologie ce lo consentono la self-soveregna identity se vogliamo entrare poi in un discorso molto tecnico molto verticale possiamo farlo i modelli basati sulla SSI consentono di garantire le funzioni di contact tracing senza ledere i diritti dell'individuo per quale motivo non l'abbiamo implementato perché non ci abbiamo pensato finché non sono arrivate guarda caso le grandi piattaforme a levarci le castagne dal fuoco ma questo perché perché ci manca una visione di società io non voglio dire Singapore è meglio di Taiwan Taiwan è meglio di Roma Roma è meglio di Berlino io voglio dire qual è la visione di società nella quale ci riconosciamo e sulla base della quale poi facciamo le scelte determinanti via via che succedono le cose anche rispetto al contact tracing perché è chiaro che se tu poni l'alternativa vuoi vivere e perdere la privacy o avere la privacy da morto preferisco vivere anche perché da morto la privacy non mi serve ma siamo sicuri che in questi termini la scelta io credo che la scelta sia come costruiamo un sistema di stato di diritto nel quale si possono tutelare entrambi gli elementi certo magari con un po' di sforzo da parte di chi deve inventarsi soluzioni tecniche adeguate quello sì ma questo non vuol dire che non sia possibile garantire i due elementi anche perché se noi ci fossimo mossi in quella direzione per tempo probabilmente avremmo avuto un risultato migliore di quel contact tracing che ormai è totalmente saltato beh sì infatti devo dire che ad oggi se dovessimo fare un bilancio io sono passato io e Roberto sono passato in Italia come un oppositore del contact tracing io sono l'autore per UN Habitat della progettazione della piattaforma di contact tracing delle Nazioni Unite in America Latina cioè cosa voglio dire proprio perché uscendo dalla dimensione di polarizzazione forte si riesce a contemperare tutto però per contemperare tutto abbiamo bisogno di qualcosa di più alto un riferimento il riferimento dal mio punto di vista in questo caso era la sostenibilità sociale tu hai nel tuo libro aggiungi alcune appendici in particolare ce n'è una su gli obiettivi dell'agenda 20 dell'agenda 20-30 17 obiettivi poi ne hai un'altra in cui che intitoli manifesto per la sostenibilità digitale in questo manifesto che poi è sostanzialmente un documento se vogliamo che è parallelo o speculare rispetto appunto all'agenda 20-30 all'agenda 20-30 tu affermi che la storia questo l'hai anche detto un po' prima tra le righe la storia dimostra che la tecnologia ha migliorato la qualità della vita delle persone questo sicuramente in un senso se vogliamo aggregato e sul lungo termine credo che nessuno possa metterlo in dubbio anche se poi come diceva Keynes sul lungo termine insomma siamo tutti morti ma probabilmente i nostri figli i nipoti i primi nipoti eccetera potrebbero potrebbero vedere le conseguenze delle nostre scelte ma la questione che io volevo porti tornando un po' al discorso del lavoro è questa io come faccio ah ah vedo ok nel frattempo rispondevo a qual era il riferimento forme di vita e capitalismo il libro del 2016 perfetto perfetto quindi rispondo anche alla persona che ci segue perdonatemi ma la mia leggera dislessia fa sì che io non ricordi mai titoli di libri e nomi di persone eccola qui eccola qui bene 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 ho risposto alla persona che ce lo chiedeva su facebook e invece volevo riportarti appunto un po' al tema del lavoro perché a me sembra evidente che nel transitorio prima abbiamo parlato anche di un transitorio permanente ma nel transitorio c'è sempre qualcuno che o per perché oppone una resistenza o magari perché non ha gli strumenti per adattarsi comunque ha un po' la peggio e ho letto di recente un libro di Richard Baldwin The Globotic Updivial in cui appunto che tra l'altro sia anche disponibile in italiano in cui lui l'economista appunto prospetta l'avvento di due condizioni che si verificheranno secondo lui in contemporanea uno l'avvento di robot non più nella fabbrica ma in ufficio quindi in modo pervasivo e parliamo quindi di robot insomma è forse una parola che andrebbe anche svecchiata ma comunque di macchine in grado di svolgere non soltanto funzioni ripetitive ma scusami ma funzioni anche tipiche dei colletti bianchi quindi di sostituirci un po' tutti e contemporaneamente la grande capacità degli strumenti digitali di abbattere le distanze immette nel mercato occidentale una enorme quantità di lavoratori molto qualificati che vengono ad esempio che lavorano che sono basati in Asia in Sudafrica in Sudamerica eccetera che però hanno un costo molto più basso e quindi come i robot di qui sopra sono in grado di creare disruption nel nostro mercato però la sua conclusione è se noi sapremo governare questo cambiamento abbiamo comunque abbiamo delle grandi opportunità da cogliere il problema è il transitorio ora questo transitorio come lo gestiamo io come faccio a dire al cocchiere di qui sopra che deve reinventarsi e diventare autista come faccio a dire all'operaio che magari perde il posto e come posso chiedergli di diventare ad esempio sviluppatore magari ha fatto per tutta la vita quel tipo di lavoro insomma riusciamo a pensare a un modello che non tenga che non lasci nessuno indietro che poi è esattamente il tagline di agenda 20-30 non lasciare nessuno indietro io credo che sia difficilissimo credo che non sia impossibile credo che entro certi limiti dovremo abdicare al fatto che ci sono alcune categorie professionali alcune categorie che necessariamente rispetto alle quali necessariamente non possiamo che pensare a meccanismi di sussidiazione mi spiego mi spiego con grande con grande franchezza noi veniamo da un mondo in cui il ciclo di vita delle competenze professionali dell'individuo era trentennale cioè io mi diplomavo mi laureavo dopodiché potevo fare più o meno quel lavoro pur uscivo dalla scuola professionale potevo fare quel lavoro per 30 anni e poi andavo in pensione ora abbiamo un ciclo di vita di competenze non lo dico io ce lo dice Rox che è di circa tre anni questo vuol dire che se o noi entriamo in un contesto di cambiamento continuo oppure non siamo in grado di star dietro all'evoluzione del mondo il che non è necessariamente bello ma è così quindi dobbiamo in qualche modo farci la pace con questo fatto il problema per chi si pone si pone per quella categoria che è tendenzialmente tra i 50 e i 65 anni che in qualche modo è abituata al vecchio meccanismo quello per il quale di 30 anni in 30 anni entrano nuove risorse a questo punto la domanda che io pongo è noi possiamo pensare di bloccare un percorso di sviluppo intero per una fascia anagrafica di 15 anni che va tutelata forse ci costa di meno pensare di sussidiare parzialmente o totalmente quella fascia e spingere al massimo possibile sull'efficientamento di tutte le altre l'idea qual è e questa non è un'idea nuova né un'idea mia è un'idea insomma di una parte dei liberali da sempre che l'aumento dell'efficienza di tutte le altre parti in qualche modo riesca a compensare quella fascia che non è una fascia complessiva noi prendiamo tutti i 50 anni e tutti fino ai 65 anni e li mettiamo a sussidio ma soltanto nell'ambito di quella fascia quelle categorie che non possono essere reskillate non sempre il reskilling è possibile questo va detto dall'altro canto noi dobbiamo entrare in un contesto per il quale o spingiamo il reskilling continuo oppure siamo morti io non vedo altre soluzioni altrimenti ci troveremo a fare come abbiamo fatto con con Alitalia se facciamo il conto di quello che abbiamo dato ad Alitalia negli ultimi negli ultimi anni probabilmente se avessimo diviso quella cifra per tutti quanti i dipendenti di Alitalia gli avessimo dato una buona uscita sarebbero stati tutti contenti e torniamo a quello che si diceva prima quindi noi spendiamo la maggior parte le risorse per conservare noi spendiamo la maggior parte le nostre risorse nel tentativo inutile di conservare uno status quo ma lo stesso vale per alcol lo stesso vale per i grandi settori industriali ma noi siamo sicuri che riusciamo a sopravvivere in questo modo oppure non dobbiamo porci il problema di come fare per fare un salto quantico in qualche modo investire davvero una parte significativa del nostro PIL in ricerca creare un sistema fortemente competitivo lavorare sulla capacità di rinnovarsi continuamente e tutelare quelle categorie che giustamente avendo vissuto in un mondo che non c'è più richiedono oggi di essere tutelate perché sono il rischio perché attenzione il mio timore è che se non facciamo così ci troveremo in un meccanismo che è del tutto perverso per il quale chiediamo a quelle categorie che stiamo difendendo cioè gli ultracinquantenni non ne voglio fare una questione generazionale ma è anche una questione generazionale gli ultracinquantenni da in qualche modo supportare chiediamo a quelle categorie protette proteggendole di sussidiare i giovani investiamo nei giovani per guardare agli anziani non investiamo negli anziani per tutelare i giovani noi stiamo lavorando al contrario ti stupirà a saperlo ma in un incontro che abbiamo fatto l'anno scorso con Tiziano Treu lui ha detto esattamente la stessa cosa convergete sulla stessa posizione cioè sul fatto che appunto è molto più proficuo sul lungo termine o sul medio termine investire appunto sulle risorse che possono avere un rendimento alto quindi sui giovani anche perché io non posso accettare il ragionamento che fece Monti quando ridiede vita a un termine già coniato che era quello della generazione perduta quando disse noi dobbiamo fare pace col fatto che per quanto possiamo essere bravi ci sarà una generazione che è quella dei quarantenni rispetto alla quale non possiamo fare nulla e lo diceva forte nel fatto che doveva garantire il pensionamento dei sessantenni ma io dico cerchiamo di sussidiare i sessantenni tutelando i quarantenni in maniera tale che i quarantenni abbiano ancora vent'anni per produrre qualcosa invece che anche se questo secondo me non deve diventare un disincentivo al lavoro a chi volesse lavorare anche fino a 90 anni io sto facendo una questione alla grafica ma in realtà una questione di competenze semplicemente faccio un ragionamento che mi rendo conto che è un ragionamento per accettate ma che è relativo alla complessità di riqualificare categorie professionali in quelle fasce della categoria professionale in cui si è prossimi al pensionamento mi spiego meglio prendiamo il caso tipico i tassisti ora io non sto ragionando dei tassisti in quanto categoria ma sto pensando al tassista 57enne probabilmente se noi dobbiamo ridefinire i modelli di trasporto urbano locale in funzione del fatto che va tutelato il tassista 57enne facciamo un danno molto più grande alla dimensione urbana di quello che faremo prendendo quel tassista 57enne e pagandolo per non fare niente sì beh certo sto estremizzando no no sono d'accordo con te certo noi parliamo dei tassisti anzi parliamo di noi rispetto ai tassisti come se noi fossimo un'astrazione in realtà naturalmente le policy prese anche in difesa dei tassisti sono come dire non sono indipendenti dall'azione dal feedback che i tassisti stessi hanno sul sistema come sappiamo bene come sa bene chi vive a Roma ricordava un po' le proteste di un paio anni fa ma la scelta ma la scelta dell'esempio sui tassisti è fatta ma è casuale certo perché ci troviamo di fronte a una categoria che ha un potere di lobbying talmente forte che riesce a bloccare un percorso di cambiamento che potrebbe produrre esternalità positive non soltanto per il resto ma anche per i giovani della stessa categoria però attenzione attenzione non rischiamo di sostituire una categoria che sicuramente ha la sua inefficienza con un'altra categoria cioè la grande piattaforma attenzione che ti crea la gig economy che tu prima giustamente attenzione ma il punto io in questo caso non me la sto prendendo il tema non è tassisti contro piattaforme che sembra un po' fracchia contro Dracula o qualcosa di simile ma sto prendendomela in questo caso con l'elemento di debolezza del sistema che non è né i tassisti né le piattaforme ma il concetto di licenza cioè ad essere antitempo non è il tassista ma il fatto che il tassista basa il suo potere contrattuale su una licenza che rappresenta un valore che è stato costruito da una distorsione mi spiego fin quando senza la tecnologia per essere tassisti bisognava studiare penso ai tassisti di Londra bisognasse studiare un anno perché il tassista doveva essere in grado di orientarsi nelle migliaia di vie di Londra il tassista aveva un valore aggiunto che era dovuto al fatto che sapeva orientarsi sapeva portare il viaggiatore tutelandolo da una parte all'altra della città quindi da una parte la licenza aveva un senso per chi prendeva il taxi questo è un tassista con licenza e di conseguenza mi tutela il fatto che mi sappia portare da A a B dall'altra tutelava il tassista che aveva investito uno o due anni del suo tempo a studiare io ho studiato questa cosa e questo mi consente di esercitare una professione questa professione è protetta in quanto per accedere a questa professione bisogna avere delle competenze specifiche poi è arrivato il navigatore satellitare il navigatore satellitare per quanto riguarda la capacità di orientarsi ha reso il tassista ha reso gran parte dello studio del tassista totalmente inutile quindi a questo punto la domanda è il tassista la licenza del tassista tutela il tassista in ugual modo rispetto agli utenti o tutela più il tassista rispetto agli utenti perché questo è il centro ovviamente noi gestiamo il ragionamento attorno ai taxi nella contrapposizione uber taxi ma in realtà il tema è licenza non licenza perché se eliminiamo il concetto di licenza vedrete che verrà meno anche la corrispondenza uber taxi probabilmente da noi la licenza è probabilmente una forma di stato sociale è un'assicurazione che esatto ma se la licenza non corrisponde a un vantaggio per entrambi le parti coinvolte si crea una distorzione io non sto ragionando sull'eliminazione dell'ordine dei medici o l'ordine degli avvocati che hanno un senso o quantomeno delle categorie professionali io sto ragionando sul senso di licenze di concessioni che hanno perduto valore in funzione dell'innovazione tecnologica e aggiungo un fatto aggiungo un fatto che è sostanziale noi guardiamo alle piattaforme ma cominciamo a guardare a ciò che le tecnologie abilitano in contrapposizione alle piattaforme pensiamo a quello che viene definito cooperativismo di piattaforma perché noi oggi siamo abituati a pensare a delle piattaforme che sono gestite da attori esterni al sistema quindi se utilizziamo uber stiamo portando valore al di fuori del contesto urbano ma se la piattaforma fosse la piattaforma creata dai tassisti restituirebbe valore alla collettività e se vogliamo ragionare del fatto che le licenze sono licenze pubbliche tutti i dati che genera la rete di tassisti potrebbe tornare indietro alla città come piattaforma urbana e quindi ecco che da un singolo elemento cioè il tassista siamo arrivati a ragionare di come dobbiamo ripensare il modello di servizi della città in un'ottica di smart city in cui le piattaforme di dati di tipo collaborativo si integrano tra di loro per restituire valore alla città piuttosto che un server che è un'azienda che sta a monta in più sì 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 il modello è molto affascinante non so se tu hai esempi di appunto diciamo corporazioni che hanno che l'hanno implementato comincia a esserci il cooperativismo di piattaforma comincia a essere un'esperienza che ha dei casi di successo ma anche in Italia ovviamente ci sono casi di successo nel settore artistico nel settore dei beni culturali cominciano ad esserci anche piattaforme cooperative che gestiscono il trasporto urbano di tassisti e questo dimostra come si possa andare verso modelli diversi disintermediando le piattaforme e questo è il tema vero naturalmente qui poi entriamo in un campo che è tipico dell'economia delle piattaforme l'effetto rete per l'utente naturalmente perché è comodo usare una piattaforma usare Uber o Lyft perché io uso una sola in tutto il mondo nel caso nell'esempio che fai tu della corporazione dei tassisti naturalmente la corporazione stessa dovrebbe avere una dimensione globale altrimenti non funziona probabilmente perché chi è disposto guarda io ti dico io vivo a Bruxelles e qui per esempio ci sono forse una trentina di servizi di sharing di monopattini biciclette e altri insomma mezzi di trasporto sostenibili diciamo così forse è più di una trentina questo significa che uno deve avere peraltro servizi che non si parlano tra loro deve avere un numero appunto equivalente di app installate per poter se io dovessi naturalmente muovermi tanto tra una città e l'altra dovrei avere supponiamo che appunto io abbia la gilda dei tassisti di Bruxelles quella di Roma quella di Londra quella di Parigi poi quella di Napoli quella di Terni di Frosinore e cose via è chiaro che il suo dimensione locale secondo me la cosa non funziona e adesso non voglio fare l'avvocato del diavolo no no ma a questo ci sono due tipi di osservazioni da una parte esistono le piattaforme federate quindi non è essenziale che ci sia una sola come dire gilda di tassisti ma è sufficiente che si torni in parte all'internet dei protocolli rispetto all'internet delle piattaforme quindi nel momento in cui si possono creare meccanismi federati un po' come succede con l'IRP delle aziende quando si fa la federazione dei sistemi il fatto che ci siano dei protocolli di intercomunicazione che consentono alla piattaforma A di interloquire con la piattaforma B consente a queste piattaforme di condividere gli utenti in un'ottica di self-serving identity cioè consentendo a ogni utente di condividere soltanto i dati che ritiene opportuno condividere detto questo bisogna poi ovviamente discriminare le tipologie di servizio perché se quello che dice è senz'altro vero per i tassisti rispetto a quella ahimè ristretta fascia di utenti che come noi viaggiano molto è molto meno vero se pensiamo per esempio ai rifiuti alla gestione dei rifiuti non mi servono 268 piattaforme di gestione dei rifiuti perché comunque alcuni servizi hanno un vincolo con la localizzazione che è molto che è molto forte diversamente mi serve un sistema di federazione anche per i rifiuti se io alzo un pochino la sticella e non guardo alla gestione dei rifiuti casa per casa ma guardo al sistema complessivo di gestione dei rifiuti ma anche in questo senso servono tecnologie legate al trust che abilitino sistemi multi stakeholder per la gestione del processo di riciclaggio delle materie prime ma anche questo la tecnologia lo rende possibile la tecnologia non è mai un problema ma il vero problema è la nostra capacità di applicare protocolli comportamentali e protocolli di gestione a tecnologie nuove e questo vuol dire essere in grado di ripensare i processi bene bene Stefano voglio usare questi ultimi cinque minuti per portarti su un terreno completamente diverso e chiederti invece di un progetto che a me ha sempre affascinato cioè Tech Economy il tuo progetto editoriale come è nata l'idea per chi non lo conoscesse ma credo sia una poca in Italia che non conosce il tuo appunto progetto editoriale una testata che ormai insomma ospita il contributo quotidianamente insomma e peraltro che tu hai di recente appunto anche un po' rebrandizzato appunto in vista dell'agenda 2030 come è nata l'idea beh Tech Economy nasce nel 2012 da un gruppo di docenti universitari che al tempo volevano fare quello che si chiamava multi blog il blog multi autore ragionando proprio sul fatto di creare un nodo che fosse in qualche modo più visibile e soprattutto che consentisse di ragionare in maniera più coordinata rispetto ai progetti editoriali dei blog che ognuno di noi aveva siamo partiti e la cosa devo dire ha funzionato nel senso che tra virgolette ci abbiamo anche preso gusto tanto che abbiamo poi cominciato anche a uscire dalla dimensione degli editoriali e abbiamo avuto una breve fase della vita di Tech Economy nella quale abbiamo anche fatto news poi a un certo punto mi sono reso conto la riflessione che abbiamo fatto con gli amici che hanno che inizialmente erano con noi è stata di questo tipo ma che tipo di ancora una volta come dicevo prima che tipo di società vogliamo che tipo di oggetto vogliamo e ci siamo resi conto che per lavorare in un'ottica business collegata a quel settore dovevamo lavorare su un modello di business profondamente legato al traffico e al tempo 2012 2013 di fatto questo avrebbe voluto dire defocalizzare rispetto al nostro obiettivo che era ragionare sul concetto di trasformazione digitale e farlo per un pubblico di specialisti per un pubblico comunque di appassionati di docenti universitari di studenti di imprenditori di chi volesse capire meglio la trasformazione digitale al che abbiamo detto ok visto che il modello di business non è possibile non avremo nessun modello di business e in questo senso Tech Economy è un po' un bombo che dimostra che si possa comunque volare nella misura in cui noi non abbiamo mai avuto un modello di business non abbiamo mai avuto attività commerciale però per tutta una serie di casualità e meccanismi che io attribuisco alla fortuna o alla provvidenza non posso attribuirle alla provvidenza perché non sono particolarmente credente Tech Economy ha sempre trovato quelle risorse per crescere però che è successo? è successo che se era sensato nel 2012 chiedersi se la trasformazione digitale fosse bella o brutta lo è un po' senza un po' meno nel 2020 al che ci siamo detti sai che c'è? cambiamo un pochino la domanda che ci facciamo cominciamo non tanto a chiederci se la tecnologia faccia bene o male se l'intelligenza artificiale crei o distrugga posti di lavoro perché sono domande malposte queste sono domande che non guardano la natura del problema semplicemente chiediamoci come fare per utilizzare le tecnologie perché siano funzionali allo sviluppo di un mondo migliore e per noi migliore vuol dire che risponda a criteri di sostenibilità e quindi abbiamo ammazzato Tech Economy e abbiamo creato Tech Economy 2030 che ha l'unico obiettivo di fare una riflessione condivisa e multidimensionale e multidisciplinare perché all'incrocio di sostenibilità tecnologia economia ingegneria psicologia e quant'altro linguistica e quant'altro e riflettere su come costruire una società che grazie alle tecnologie possano diventare migliori questa riflessione è la riflessione alla base del progetto territoriale di Tech Economy 2030 e devo dire che se inizialmente pensavamo che questo avrebbe in qualche modo fatto sì che avremmo perso potenzialmente una fascia di utenti più interessati alle tecnologie che a chiedersi a cosa servono in realtà devo dire che questo non è avvenuto perché a valle di questo cambiamento che per noi è stato effettivamente epocale abbiamo avuto un consolidamento dei vecchi lettori e l'acquisizione di tanti lettori nuovi oggi il nostro obiettivo è quello di continuare sempre con maggior livello di dettaglio a riflettere su come fare per costruire grazie alla tecnologia un mondo migliore questo è in estrema sintesi il nostro obiettivo qui poi si potrebbe aprire anche un altro discorso che a me interesserebbe tantissimo fare sul destino diciamo così dei oggetti che erano blog all'inizio degli anni 2010 che oggi sono diventati quelli che sono sopravvissuti naturalmente come appunto tech economy che oggi sono diventati qualcosa di diverso qualcosa di più simile a una testata sì ma tech economy è una testata giornalistica a tutti gli effetti il problema è che viviamo in un contesto che privilegia la quantità rispetto alla qualità e lavora su un principio che per quanto si parli di necessità di profilare gli utenti e quant'altro lavora su un principio degli utenti un tanto al chilo e questo rende molto difficile ma non tanto per tech economy tech economy ripeto ha la sua dimensione editoriale un po' particolare e peculiare per la quale abbiamo scelto di non preoccuparcene peraltro da poche settimane tech economy è entrata all'interno di una fondazione è diventato l'asset di una fondazione e di conseguenza non ha un modello non deve più avere un modello di business ma deve semplicemente pensare a far bene il suo il suo lavoro il punto vero è che guardando non tanto a tech economy quanto all'ecosistema dell'informazione che si basa su dimensioni quantitative questo porta a un depauperamento della qualità che è un depauperamento strutturale credo gli effetti dei quali si vedano quotidianamente rispetto al quale modelli alternativi ci sono si stanno pian piano affermando ma lo fanno con grandissima difficoltà perché costruire un modello di sostenibilità economica in un contesto in cui i primi a non volere a non capire che servirebbe una sostenibilità economica nel settore dell'informazione diverso sono in primo luogo i giornali in secondo luogo gli investitori pubblicitari che sono ancorati a dei modelli del tutto vecchi e inutili oltretutto sul mercato totalmente drogato questo va detto bene di questo parleremo giovedì questo giovedì con Antonio Pavolini che ha dedicato anche ha dedicato a questo tema qualche qualche studio e anche un suo ultimo libro bene Stefano molto bello io ti ringrazio tantissimo di essere stato a tutti voi per la pazienza e ci si legge online immagino assolutamente assolutamente grazie ancora Stefano Epifani buona serata a tutti ciao ciao ciao